Il numero zero sull'idea è meglio essere in folle, se si controllano, in qualche modo aumentate le vostre emozioni, il vostro obiettivo, con quelli di sentire un problema, si chiuse completamente retretto, cosa fare? Iniziamo sempre a fare un po' di cose della vita. Ma non potremmo pensare le borse? Ma all'attacco, eh! Oh, ma Alfonso l'avete perso! Eccolo, è lui! Il gatto pardo! Con la calma, la vaselina, il bollino, la gallina! Arriva! Venga, ombre, venga, 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 a paparazzino! È la compagnia! Eh, lascia fare gli amici, eh! Andiamo tutti assieme! Quando voi utilizzate... Alla prossima!